Nel primo test del 2018 il Teramo perde l'amichevole al Bonolis contro il Pescara Primavera, 2-1. Nel primo tempo il Teramo era andato in gol con Barbuti, poi c'è stato il pareggio del Pescara Primavera con un tiro dalla distanza di Morselli sul quale il portiere Calore non è stato perfetto. Nella ripresa, al primo minuto, il gol che ha deciso questo test amichevole è segnato da Borrelli per il Pescara Primavera. Asta ne ha approfittato per provare il modulo 4-3-2-1 per tornare al cosiddetto albero di Natale schierando Altobelli e Speranza al centro della difesa con Diallo e il Baby Gualtieri sulle fasce e poi con Bacio Terracino e Sumare a sostegno dell'unica punta Barbuti. Meglio sicuramente il Teramo nel primo tempo, diverse occasioni create, anche una traversa colpita da Sumare che nella ripresa, dopo anche il gol di svantaggio, la squadra di Asta non ha creato molto per trovare il gol del 2-2. Stiamo lavorando tantissimo con il ministro, lo staff, tutto quanto, col prof. Ancora ieri abbiamo fatto una doppia seduta ma questo non vuole essere una scusa. Tutti i componenti della Rosa hanno fatto 45 minuti e l'obiettivo era quello, mettere ancora un minutaggio nelle gambe. Però al di là, ripeto, del risultato che lascia il tempo che trova, io ho visto che i ragazzi sono mossi bene. Quindi, prova positiva. Ecco, la novità è questo ritorno ai due giocatori a sostegno del centroavanti, questo 4-3-2-1. Quanto state lavorando e quanto credete a questo ritorno al modulo di inizio stagione sostanzialmente? Beh, è un ritorno ma è anche un vantaggio perché ci abbiamo lavorato tutto il ritiro, tutto il mese di agosto, settembre. Sono andati avanti fino a metà ottobre, fino a Pordenone, se esattamente l'ha data, non la ricordo. Però, insomma, mi sembra che la squadra risponda anche abbastanza bene. Poi i moduli a 4, a 3, a 5, insomma, lasciano sempre anche lì, in questo caso, il tempo che trovano. Perché dipende come tu affronti la partita, cioè se giochi 4-3-3, i due attaccanti laterali che sono sulla linea dei difensori, quindi è ancora più difensiva di prima. Quindi dipende l'altezza del campo in cui si fanno giocare gli attaccanti. Noi ci crediamo, però non è detto che poi durante la partita stai vincendo, manca pochi minuti, non c'è scritto nessuna parte che ti metti a 5 dietro, oppure stai perdendo e vuoi mettere un attaccante in più. Insomma, voglio dire, dipende poi dalla base. Partiamo da una base, la base è 4-3-2-1 e poi dopo ci ragioniamo su durante la gara.